Alla fortezza firma Fede torna questo martedì 2 agosto il Festival Pianistico Città di Sarzana, giunto alla sua 22esima edizione. Per chi non lo conoscesse, raccontiamolo questo festival. Certo, questo è l'unico festival pianistico, diciamo l'unico festival dedicato interamente al pianoforte in tutta la provincia. Si svolge appunto da 22 anni, è organizzato dalla associazione musicale Pianoforte in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Sarzana e ha un sostegno anche dalla Banca Versiglia, L'Unigiana e Grafagnana. Si compone appunto di tre concerti che si terranno tutti all'interno del Salone Porticato della fortezza firma Fede in via Cittadella-Sarzana alle 21.15. Ecco, entriamo nel dettaglio. Il festival inizierà appunto martedì 2 agosto con un primo concerto. Sì, esatto, martedì 2 agosto ci sarà il concerto inaugurale che sarà tenuto dal pianista, giovane pianista campano Antonio Gomena di 20 anni, che è riduce da un grande successo adesso alla Carnegie Hall di New York, che presenterà un programma particolare intitolato Toccate, suonate e fantasia, poi che affronterà queste forme musicali eseguendo toccate di Bach, di Schumann, suonate di Mozart e di Beethoven e poi la celebre fantasia di Chopin. E poi il festival proseguirà con altri due appuntamenti nel fine settimana, sabato e domenica, sabato 6 con un celebre pianista Alberto Lodoletti, che presenterà un programma intitolato Concerto e Rapsodia, poi che eseguirà due rapsodie famose come la rapsodia inglese numero 2 di Liste e la rapsodia in Brody Gershwin, e poi si concluderà il 7 con un pianista sarzanese giovanissimo di 16 anni, un mio allievo che studia all'Accademia musicale Andrea Bianchi di Sarzana, che ha già vinto numerosi concorsi, che farà un programma di grande difficoltà, comprendente opere di Bach, Chopin, Schumann, Rachmaninoff, Debussy. Comunque il programma è consultabile su www.festivalpianisticosarzana.it e i concerti sono tutti in ingresso libero alle 21.15.